Grazie a tutti. Il percorso esistenziale che fa quest'uomo, Bartimeo, articolato e che è immagine di ciò che accade ad ogni uomo che, dopo aver ascoltato l'annunzio di Gesù, entra in un rapporto personale con lui, cambia vita e comincia a seguirlo. Ieri sera dicevo che c'è però un aspetto da approfondire, che non era possibile fare nello stesso contesto per non allungare indebitamente troppo i tempi, di un'omedia, e che era il significato simbolico dell'essere cieco. E voi sapete che, fin dei tempi dei padri della Chiesa, è stato insegnato che tutti i miracoli che Gesù ha compiuto, tutti, che sono realmente accaduti, ed erano fenomeni reali nella loro materialità. Cioè, ha guarito il cieco, la prima lettura, profetizzandone altri, ci diceva che tra loro sono il cieco, lo zoppo, Gesù ha fatto camminare gli zoppo, ha fatto vedere i ciechi, ha curato i lebrosi, ha scacciato i demoni, le ha fatte queste cose. Ma dietro ogni gesto materiale c'era una significazione simbolica, cioè la cecità materiale simboleggia qualcos'altro, e che riguarda tutti, e che è qualcosa di interiore. Cosa vuol dire essere ciechi? Volete fare una prova adesso? Se tu hai occhi chiusi, volessi alzarti, uscire dalla Chiesa, per quanto la conosci bene, sicuramente intruppi. Non possiamo, cioè con la necessità è una situazione di oscurità tale, che non riusciamo ad orizzontarsi, non riusciamo a morirci. Cosa disegna questo simbolicamente? E questo disegna una delle brutte conseguenze, purtroppo, la Chiesa Questa l'ha sempre insegnato, del peccato originale, che è l'ignoranza della nostra intelligenza. Ci sono tante cose che noi non sappiamo, e non solo, e non principalmente per quanto riguarda la cultura umana, quindi gli ignoranti che sono quelli che non avrebbero studiato. Aver studiato davanti a Dio non ha nessunissima importanza. Dio non guarda chi ha studiato o chi non ha studiato, ma è l'ignoranza di cose più profonde. Guardate che noi siamo molto ignoranti, tutti, me compreso, e ogni giorno devo andare a prendere un po' più di luce su tre cose, almeno fondamentali, che vedremo brevemente. Noi siamo ignoranti su Dio, non lo conosciamo bene, o forse non lo conosciamo per niente. Secondo, noi siamo ignoranti su noi stessi, noi non ci conosciamo. E se qualcuno pensa di conoscersi bene, alzi la mano che lo venga a dire qui davanti a tutti. Non ci conosciamo. Terzo, noi non conosciamo bene il prossimo, è la realtà degli altri. Guardate, chi è sposato, io dico sempre, anche chi è sposato, conosce, beh, si conoscono bene la mamma di tua moglie, ma ricordate che c'è sempre una cosa che tu non puoi conoscere, che è all'interno di tua moglie o di tua marita. Cioè tu non stai dentro di lui o dentro di lei, quindi non vivi le cose come le vivi lui, non hai i suoi stessi sentimenti, non te li può comunicare, non hai le sue stesse reazioni. Non capisci, non capisci i suoi processi mentali che lo portano ad giro in un certo modo. Questa ignoranza non ce l'avevano, soltanto Dio ci conosce in questo modo. Allora, qualche esempio. L'ignoranza su Dio, che significa? Chi è Dio, veramente? Cioè, parola carichismo, se Dio è uno nella sostanza, se Dio è uno nelle persone, padre, figlio, spirito, santo, questo tutto quanto bene, d'accordo? Ma che idea ho io di Dio? Vi faccio un pochino di esempi di cose che rappresentano la cecità su Dio, cioè di idee storiche. C'è chi pensa oggi, vabbè, oltre a chi pensa che Dio non esiste, c'è chi pensa che Dio se c'è qualcosa, se ne sta dall'altra parte, si fa gli affari suoi, d'accordo? Questo non è Dio, d'accordo? C'è chi pensa che Dio sia una sorta di conaccione, quindi che sta dall'altra parte, guarda, vuole bene a tutti indiscriminatamente, quindi non fai niente, qualunque cosa fai gli sta bene lo stesso, bene o male che sia. Alla fine della vita sei il primo criminale, sei il grande santo, sei l'ultima di paradiso, sei visto, sei visto. Questa sembrerebbe una bella idea di Dio, perché al centro la sua bontà, ma Dio non è così. C'è un'altra, che prima era molto diffusa, ma adesso quasi per niente, che è quella che pensa, insomma, che Dio sia una sorta di giustiziere spietano, nel senso che sta a controllare tutto quello che noi facciamo, segna tutto e qualunque cosa fai te la fa scontare, te la fa scontare, te la castiga sulla terra, te la punisce dopo, chi lo sa che succede, insomma, no? Oppure c'è chi pensa, sì che Dio in qualche modo ci esiste, ma non ci pensa a me, pensa a qualcosa altro, cioè ai miei problemi, alle mie cose, non ci pensa. Queste sono tutte quante idee distorte su Dio. E quando una persona incontra Gesù, la prima cosa da cui si vede è non soltanto una conoscenza teorica, ma una conoscenza intima e profonda di chi Dio è, Dio è colui che ti, non semplicemente impersonale, ha pensato, creato, amato, salvato, redento, ti accompagna, in ogni istante, quale solo che tu sia, il più felice possibile in questa terra è dopo, questo è Dio, d'accordo? E si vede qualcosa in Cristo crocifisso. Vediamo le cose che non sappiamo di noi stessi. Sapete che il grande Sopradi ha cominciato il suo percorso filosofico guardando l'oracolo che c'era scritto sul Tempio di Apollo a Deppi, che in greco dice, gnotis autonoma, cioè conosci te stesso. Siamo sicuri noi di conoscere noi stessi. Guardate che gli esseri umani hanno tutti quanti una sorta di idea completamente distorta di se stessi. E questo sarebbe da fare una predica lunga tre ore, non altri tre minuti, insomma, ma tre ore. Le persone, allora, generalmente, non hanno una visione positiva di se stessi. Anche quelli che dicono che ci stanno un po' antipatici, che sanno sempre a parlare di se stessi, che sembra che sanno tutto loro, che fanno tutto loro. State attenti. Se quella persona ti parla, specialmente chi fa così, è una persona che non si ama, non si apprezza, non ha una percezione positiva di se stessi. È tutta una messa in scena. Sono tutti quanti i modi per nascondere a se stessa il dramma di una non accettazione profonda di sé. E guardatevi, parlo di sacerdote, dietro queste cose ci sono delle situazioni esistenziali di vita veramente devastanti. C'è chi si pensa che non sbaglia mai, ed è molto difficile far rivedere il contrario. Cioè, che il male sia sempre fuori di sé. O chi sta depresso perché pensa di essere un disastro totale e che non ne fa una dritta. Tutte queste cose sono tutte sbagliate. Allora, la visione buona di noi stessi, che in parte deriva dalla prima, io, in quanto persona, in quanto anima, questo vale per tutti voi. Tu che vi stai ascoltando, io che sto a parlare, tu sei un pensiero di Dio, che Lui ha voluto che fosse. Gesù ha detto che il valore di un'anima, sui occhi, è infinito. E che un'anima che si perde, vi ricordate la parola della piccoletta, la sbarrita, lascia 99 per andare a cercare di uno. Perché? Perché Dio non è un buon aritmetico, Lui mi perdona, perché per Dio uno più uno non fa due, fa uno. Perché una vale come 99. Se non è, dice, va bene, ma se ne è 99, lasciala perdere una. No! Quindi questo, capite, tu devi pensare in questo modo. Cioè, noi siamo preziosi a Dio. E che succede? Tutte quante le volte che noi viviamo lontano da Lui, in che senso lo offendiamo? Noi non Gli diamo la gioia di poterci vedere belli come Lui ci ha creato e pensato, né contenti come Lui ci vorrebbe vedere. Allora, la visione corretta di noi stessi qual è? Dio ci ha fatto così, ma noi purtroppo siamo diventati colati, con tanti guai che abbiamo combinato, con tanti errori che abbiamo fatto, anche in buona fede. E guardate che la prova con la persona in contraluce di Gesù, io lo dico da un sacerdote, è quando è capace di mettersi davanti allo specchio, rivedere la sua vita e fare una confessione, io la chiamo come Dio comanda. Non so chi l'ha mai fatta. Sapete come fanno i negozi ogni tanto, no? Fuori tutto. Fuori tutto. Fuori tutto. Cominci a pensare, da quando c'è avuto l'uso della ragione a oggi, questo si fa, viene, la grazia questo lo suscita quando una persona può un buon cammino di fede, perché sente l'esigenza di andare davanti al Signore senza paura, perché tanto Lui già ha seguito quello che hai fatto, tu non ti preoccupare, Lui lo sa, ma noi abbiamo bisogno di andargli a dire umiliati, dicendo, vedi Signore, Tu mi hai fatto tanto bello, guarda io come lo so ridotto, te lo riporto, perché tu tutta questa cosa che l'hai distrutta sulla croce, me la cancelli, e Lui lo fa. E le persone risolvono. Altra cosa che siamo ignoranti è la realtà. Sia la realtà terra-terra, noi siamo sempre sicuri delle scelte che facciamo, siamo sempre sicuri, per esempio, quando andate a voi facciamo un argomento che fa subito la scuola della quale sede, quando andiamo a votare, siamo sempre sicuri che votiamo bene, per esempio, per esempio, no? Molte volte noi diciamo, ma che devo fare a mezzo a sto marasma? Ma a chi lo do, il più pulito c'è la rombia, dice l'animale. E non sappiamo cosa fare, nelle piccole come nelle grandi cose, no? Ma l'ignoranza ricorda anche i grandi orizzonti della vita. Cosa c'è dopo la morte? Lui ce lo dicevano, ma tra poco diciamo che credo dopo la morte c'è la vita eterna, ma tu sei proprio sicuro che c'è la vita eterna? Ma non voglio fare la buca cosa di diavola, ma siamo proprio sicuri, ma siamo proprio sicuri che io ci credo che Dio esiste, che Dio vede tutto quello che faccio, ma se faccio una buona opera il Signore me la ricompensa, qui e dopo, è che più ne faccio e più in alto andrò in gloria, perché questo è, capite? Allora se uno ci crede veramente a tante cose, tante realtà della vita li affronta diversamente, no? Pensiamo alla morte di una persona cara, pensiamo a una disgrazia, a una malattia, una cosa di questo genere. Qui ci sono soltanto alcuni esempi. Ecco, quando si incontra Gesù, arriva la luce. E questo, cioè, non è che devi fare, tu lo vivi questo qui. Chi ha vissuto queste cose, lo capisce subito. Chi non l'ha vissuto, speriamo che gli venga un pochino di voglia, perché Gesù questa cosa la vuole dare a tutti, eh? Cosa dice qui? Che cosa apprezza del cieco? Il cieco apprezza che questo, appena visto Gesù, ha cercato, oh, tu devi fermare, io ti voglio, credo in te, devi guarire. E la bellissima domanda, scritta qua sul bollettino, che cosa vuoi che io faccia per te? Che io riabbi alla vista. Fammi vedere bene le cose come le vedi tu. Fammi conoscere bene chi è Dio, fammi conoscere bene chi sono io e fammi conoscere bene la realtà, per quanto è possibile non essere umani. In modo tale che possa condurre una vita bella oltre che santa in attesa della pienezza della vita in cui credo fermamente che mi attende dopo questa esperienza terrena. Chiediamo al Signore in questa Santa Messa che ci doni la grazia di questa luce per l'intercessione di Maria Santissima, perché possiamo accogliere questo dono che in lui vuole farlo, ma che giunge a noi, come abbiamo ascoltato, in misura della nostra fede. Siamo notati Gesù e Maria. Grazie. 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 Grazie.